Non è mai successo che non rispondesse alla mia chiamata Cosa facciamo? Superiamo l'ostacolo Avanti, salta Kiki, non è difficile Sì, aspettami, arrivo Sì, aspettami Aiuto Ecco fatto Per un pelo Corri, corri Sì Ho tanta paura Andatevene immediatamente Non possiamo, prima dobbiamo parlare con Tagio Roku Sparite tutte e due Ho l'impressione che non gradite la nostra presenza Hai indovinato Invece noi restiamo E' riuscito a schivare il mio attacco Sì 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 Debi andarte Sì 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 Sì